Io sono convinto che alcune cose si potrebbero fare e si potevano già fare prima, alcune proposte, alcune state le avevamo anche tracciate. Io credo che innanzitutto bisognerebbe prendere coscienza dei rapporti internazionali che si hanno con degli stati che hanno rapporti poco chiari con i gruppi terroristici, quegli stati che sono cosiddetti canaglia, stati che finanziano e che foraggiano il terrorismo internazionale. Ci sono degli stati con cui abbiamo dei flori di rapporti economici e con cui abbiamo difficoltà ad ammettere il loro ruolo dal punto di vista internazionale. Questi stati se ci fosse la volontà di sconfiggere il terrorismo internazionale si potrebbero isolare, si potrebbero colpire economicamente, ma non c'è mai stata questa volontà politica perché poi siamo tutti bravi a fare dei bei discorsi di circostanza, andare a piangere le vittime, però nel momento in cui ci sono i grandi interessi economici non c'è stata quella grande volontà che noi avremmo voluto vedere. E poi il secondo piano è la collaborazione in termini di intelligence e lì si apre l'altro grande problema perché nell'Unione Europea purtroppo abbiamo dei servizi di intelligence che sono tutti diversi, ci sono degli strumenti che non funzionano di cooperazione e purtroppo spesso e volentieri i sistemi di interno dei diversi paesi tendono a essere sospettosi e scettici nei confronti di quello vicino, quindi per nascondere un po' la polvere che c'è a casa propria non si mettono assieme quelle che potrebbero essere le risorse per potersi scambiare informazioni e combattere seriamente un fenomeno globale e complesso, che riguarda tutti e io credo che dovremmo guardare anche oltre e creare una vera cooperazione internazionale anche con altri soggetti importanti del mondo per combattere il terrorismo, ma la cosa più importante è isolare quegli stati canaglia e alcuni li conosciamo abbastanza bene.